la sedia benchmark memory foam di avid carp è progettata pensando alla comodità è dotata di un materasso in memory foam ricoperto in pile offrendo supporto e comfort dove conta davvero la sedia benchmark memory foam possiede uno schienale molto alto dotato di poggia testa per supportare il collo anche per lunghi periodi di tempo la sedia è dotata del rock steady leg system che resta bloccato anche se esteso alla massima altezza i piedini antifango sovradimensionati migliorano anche la stabilità indipendentemente dalle condizioni del terreno la sedia benchmark memory foam è dotata di schienale regolabile per adattare la poltrona in posizione perfetta il bracciolo è imbottito contribuendo a migliorare il comfort e ridurre l'affaticamento la sedia benchmark memory foam di avid carp